Ciao e benvenuti a tutti. 1, Ultima Stella 87. Se giallo e frisbee trasmettono patatrack? No, perché Discovery Italia non la farà mai. Riusciremo a rivedere Canal One? Lo scopriremo prossimamente. Karen McCormick è uno dei personaggi di South Park. Canale 5 è il primo canale televisivo di Mediaset, nato nel 1978. Se Rai Oio ritrasmettesse cartoons, e cartonito con pippi calzelunghe siamo fatti così? Sì, sarebbe perfetto. Warner TV in Italia sarà fantastico. Antenna 3 è una rete televisiva locale italiana, nato nel 1977. E2, a VNSK2 trasmettesse la clip di Taito Maggeri Show. Taito Maggeri Show c'è già su cartonito. Se Rai Oio trasmettesse la serie A9 con la Formula 1, Frisbee con studio aperto, R101 con Squid Game? No. Cambio LCN di Sky Sport 24? No. Cambio orario di South Park d'Italia 2? Forse al pomeriggio? Se Sky TG24 ci sarebbe su Rayplay? No. Ed è tutto. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao a tutti e alla prossima.